Ben ritrovati alla nostra diretta delle 13, buongiorno a tutti, quest'oggi in questo spazio come abbiamo avviato già da qualche lunedì, quando è possibile trattiamo i temi sportivi, weekend sportivo appena concluso, questo poi è particolare visto che ieri è andata di scena la Barcolana numero 53, qui con noi in studio il caporedattore della redazione di Trieste di Tele4, Marco Stabile, buongiorno Marco, bentrovati a tutti, si parte Bernardo? Si parte, parte anche il caffè dello sport nella sua veste completa, quella di approfondimento di un'ora e mezza che oggi in particolare aprirà proprio con la Coppa d'Autunno e quindi Marco una regata ventosa che ha visto arca vincitrice di questa Barcolana numero 53, una Barcolana possiamo dire anche movimentata, il vento fatto da sua parte? Assolutamente sì, una Barcolana che ha avuto 1650 iscritti ma il comitato di regata ha deciso da subito di lasciare a terra le imbarcazioni più piccole per sicurezza e poi nel corso della regata si è deciso prima per accorciare il percorso, poi per sospendere la regata ad eccezione delle categorie dei più grandi, semplifichiamo così. Queste immagini si riferiscono a una partenza, una partenza sotto raffiche di Bora che dai 40 nodi sono arrivate addirittura a punte di 48, quell'imbarcazione alla destra di Arca che avete visto con quella randa bianca e Prosecco Dock, Porto Piccolo Prosecco Dock, che tra l'altro ha spaccato le stecche della randa, vedremo poi in altre immagini una partenza complessa che poi è costata la regata. Davanti a tutte in prima boa Way of Life dello sloveno Kasper Vincenz che ha girato primo, Arca dietro ad inseguire di poche lunghezze ma cos'è successo poi sul secondo lato? Anche l'imbarcazione slovena ha avuto qualche problemino al carrello della randa permettendo così ad Arca che di fatto era già in rimonta di superarla agevolmente e di andare a vincere. Dietro poi Bernardo è successo un po' di tutto perché ovviamente i più piccoli sono rimasti a terra ma altri sono andati in difficoltà con forti raffiche di vento, tanti interventi, se non sbaglio 11 della Capitaneria di Porto, 41 persone soccorse in mare, per fortuna Bernardo è la cosa più importante, nessuno si è fatto male in modo serio, c'è una persona che ha ricevuto un colpo in testa con il Boma, un timoniere, ma per fortuna a quanto sappiamo non si tratta di nulla di grave. Ecco queste sono le imbarcazioni dello scafo che ha scufiato e poi addirittura affondato, imbarcazione slovena di 10 metri, 6 persone a bordo che come vedete erano aggrappate all'imbarcazione in attesa dei soccorsi, poi sono stati recuperati, qualcuno invece è stato recuperato dal Delfino Verde, un velista che invece è volato in acqua in partenza ed è stato recuperato dall'imbarcazione che fornisce il servizio litoraneo che in questo caso ospitava a bordo gli amanti della vela, quindi insomma un po' di brividi diciamo così. Brividi ma non tanto in acqua perché come ho letto anche oggi lo stesso che è caduto in mare ha detto non ero granché preoccupato nonostante non avessi addosso il giubbotto salvagente perché la temperatura del mare non era poi così fredda, per assurdo nel vedere queste immagini uno si immagina ovviamente un'acqua ghiacciata a una temperatura proibitiva anche solo per pochi minuti, lui è stato 10 minuti in attesa dei soccorsi ovviamente era attorniato dalle barche che erano lì presenti almeno nelle vicinanze, non era abbandonato in mezzo al golfo, poi la barca invece che il Delfino Verde che hai richiordato tu era quella proprio predisposta a poter intervenire in maniera migliore rispetto ad altri. Questo per quanto riguarda gli eventi diciamo di incidenti di percorso di questa barcolana 53 che come dicevi tu ha visto al traguardo non tutti, sulle 1650 se non sbaglio al nastro di partenza, 126 sono arrivate al traguardo quindi è una barcolana che possiamo dire ha visto pochi arrivare ma tanti comunque partecipare soprattutto a terra non soltanto in mare perché poi la festa a terra è di tutta la città e delle tante persone che sono venute a Trieste per il clima di festa che la barcolana trasmette ogni anno a prescindere poi da chi vince invece in mare. Tra l'altro in categoria generale 1 ha ovviamente vinto Arca, in 2 in realtà Way of Life ha vinto di categoria in categoria 3 la terza proprio sul traguardo l'ex Maxi Iena così la conosciamo di Milos Radonic generale quarta Adriatic Europa di Duchampou e poi tante altre vittorie di categorie in 3 per esempio la Woodpecker Cube del circolo canottieri Aniene con Alberto Rossi Armatore e poi ancora diverse altre imbarcazioni molto interessanti che hanno fatto bene c'è anche il mitico Shining che è arrivato in ottava posizione generale queste immagini però ci ricordano una cosa che finalmente la città ha avuto di nuovo la propria cartolina la propria cartolina di città della barcolana quell'immagine che arriva in tutto il mondo perché in tutti i telegiornali i giornali specializzati non solo del mondo l'immagine della barcolana arriva e promuove Trieste tu stesso Bernardo l'hai vissuta chiaramente a terra nel villaggio barcolana e sabato sera si era diciamo così colpiti da quello che è stato un ritorno alla festa oltre che la regata in mare. Un ritorno alla festa, un ritorno alla partecipazione anche della vita della città, della vitalità della città, del commercio o comunque di ciò che offre Trieste e ha offerto in questa settimana nonostante poi Labora abbia compromesso una giornata intera di villaggio barcolana chiuso nel tratto delle rive se non sbaglio e nella giornata di giovedì diciamo complicando un po' anche quelle che era la visita di tanti turisti che hanno preso l'assalto agli alberghi quindi in maniera collaterale hanno aggiovato anche al sistema d'accoglienza, di trasporti, di ristorazione della città e questo può far piacere soprattutto dopo il periodo di chiusure forzate che abbiamo vissuto. Dedichiamoci anche al resto del weekend sportivo, l'Allianz che ha vinto la sfida di ieri una partita magari non bellissima ma l'importante è in questo caso arrivare concentrati a ottenere il risultato che se non sbaglio è maturato soprattutto nella prima parte di gioco. Allora una partita che ci regala due punti e questa è la cosa più importante contro una Brescia che non aveva ancora mai vinto quindi aveva un po' il coltello fra i denti per cercare di portare a casa i due punti. Coach Magro, Coach Ciani li vediamo sulle rispettive panchine. Una gara che non è stata bellissima come dicevi tu ma che ha mostrato un'Allianz capace di reagire alle fiammate avversarie. La squadra di Ciani, qui vediamo Conate con una bimane imperiosa, Conate veramente fa capire proprio perché è stato assente nell'ultimo match quanto possa fare la differenza in pitturato sia in attacco che in difesa perché una sua stoppata, una sua schiacciata, una serie di rimbalzi in fila mettono in difficoltà gli avversari e li costringono a scegliere perché se vai in penetrazione e ti trovi di fronte a questo armadio che salta per dirla così in termini un po' gergale diventa tutto molto più difficile quindi magari ti affidi al tiro da fuori ma in quel caso la difesa accorcia sul perimetro. Detto questo abbiamo visto Magro, coach di Brescia, ma abbiamo visto Campogrande per la prima volta in formazione con veramente alcune azioni molto importanti 14 punti per lui, invece ventello abbondante per Adrian Banks, trascinatore di questa Allianz Campogrande invece ha mostrato di essere un uomo utile che esce dalla panchina e può dare qualcosa in più La partita sembrava quasi chiusa a metà del match con un ottimo parziale in finale del secondo quarto e l'Allianz, poi Brescia invece l'ha riaperta e siamo arrivati ai minuti di finale in cui la partita si è decisa grazie ad Adrian Banks, grazie alla difesa e grazie anche al playmaker Sanders che con un paio di accelerazioni ha messo in ambasce la difesa bresciana. Due vittorie, una sconfitta in trasferta, l'Allianzone però rimane un furtino. Pareggio invece per la Triestina che era impegnata ieri a Verona contro la Virtus.fe.comp una partita abbastanza piatta da un punto di vista, a parte il risultato, 0-0, un pareggio bianco come si dice a reti bianche, a reti inviolate, ma anche una partita che non ha offerto grandi spunti per la cronaca dei 93 minuti totali di gioco perché la Triestina si è presentata sì in campo con la voglia di arrivare al risultato ma poi vuoi la complessità di una sfida bloccata a centro campo, vuoi anche le tante assenze in casa Triestina, soprattutto nel pacchetto offensivo, opzioni d'attacco ovviamente valide, quelli dei Rosso e Labardati che però non hanno inciso più di tanto. E qui il cammino della Triestina si è dimostrato altalenante, due vittorie di fila nell'ultimo mese, nel mese di settembre, per poi un esimo stop, ora un punto che sappiamo il detto dice il punto fa classifica, però la classifica dell'Unione a otto partite dall'avvio del campionato dice dieci punti, un po' pochino. E' una squadra che deve trovare una sua fisionomia, lo abbiamo detto dopo un mercato che si è chiuso praticamente all'ultimo istante e ha portato tanti nuovi giocatori, ma è una squadra che soprattutto deve trovare cattiverie e cinismo perché in Serie C, lo diciamo ormai da più stagioni, il bel gioco paga fino a un certo punto, bisogna essere cattivi, cinaci, portare a casa l'1-0 in trasferta, magari a centro campo, magari essere anche un po' più tosti dal punto di vista dei contatti perché ci sono delle differenze clamorose tra giocare in una situazione come lo stadio Rocco da Serie A e giocare in questi campi di provincia. Le squadre si chiudono, le partite si fanno più difficili, con la tecnica magari non riesci sempre a superare l'avversario, quindi serve quel salto di qualità dal punto di vista del cinismo e della mentalità che però una squadra nuova, con un progetto biennale, con tanti giovani, con tanto rinnovamento, ha bisogno di tempo. Dopodiché, vista dai tifosi, che è chiaramente non è sempre così facile far passare questo messaggio in un momento in cui tutti si aspettano risultati e tutti, bisogna dirlo, si aspettano la Serie B anche se non è necessariamente nei programmi di quest'anno. Decima in classifica, volevo dire, non 10 punti, ma tant'è sì all'interno della posizione play-off, che è poco per adesso, visto che sono partite di inizio campionato e il campionato sappiamo è anche abbastanza lungo, la riflessione che ci siamo fatti in tanti, chi segue la trestina, chi più da vicino, chi più da distante, segue lo stesso, è quello di una squadra a cui va dato atto alla società di aver costruito una squadra con volti nuovi, quindi anche la volontà di cambiare l'inerzia dello scorso campionato, che è stato abbastanza deludente in termini di risultato finale, con innesti importanti, con un nuovo allenatore, ricordiamo che sono tre al momento gli allenatori che sono nel borsino della trestina, perché oltre a Gautieri e Pilon adesso ovviamente c'è anche Bucchi, con molti volti nuovi fra i giocatori, non ultimo il portiere, il primo che parte con il numero, con la numerazione delle magliette e anche un nuovo innesto, però bisogna dare anche tempo, alcuni dicono 8 gare è sufficiente per rodare i nuovi innesti, però c'è anche da dire che sono arrivati veramente alle ultime fasi di campionato. Il problema è che 8 gare sì, se avevi la squadra ad agosto pronta, hai fatto il ritiro, hai capito le gerarchie, hai capito il modulo giusto da applicare, perché in realtà Bucchi è già partito con un'idea e poi si è adattato sulla base di quello che gli ha fornito il mercato, quindi anche qui è un cantile aperto, è verissimo, è una triestina che probabilmente invece dal mio punto di vista vedremo sotto Natale nella sua vera fisionomia, il problema è, basta per arrivare in una posizione utile per i pre-off, per provare ad insidiare le big nella scalata alla Serie B, speriamo, contiamo di sì. Io sono più, virgolette, preoccupato da un altro aspetto, il pubblico, perché l'Allianzieri ha aperto le porte a più persone, le persone hanno risposto. La triestina in questo momento su questo ha un grosso punto di domanda ed ha ancora una tifoseria che per la questione Green Pass rimane fredda, distante e Milanese ha lanciato un chiaro grido all'allarme anche nel servizio fatto da Umberto Bosazzi sabato in cui diceva il problema non è solo la capienza. Non è la capienza perché la capienza oggi dà la possibilità a circa 10.000 persone di poter andare allo Stadio Rocco, però se dopo la risposta è di 800-850 persone, allora c'è un problema di affezione forse o di disaffezione forse della tifoseria della triestina che però dobbiamo ribadire ha anche uno zoccolo duro di 2.000-2.500 tifosi, buona parte della curva che al momento sta protestando contro le misure introdotte, il Green Pass per primo e che quindi sta scegliendo di non seguire da vicino la squadra e questo è un forte limite per quello che è il cuore, poi l'anima vera del tifo rosso alabardato, senza nulla togliere a chi gli altri vanno in tribuna, seguono la squadra anche in trasferta e ci vanno sempre, però poi il coro e la vicinanza proprio emotiva la dà soprattutto il calore della curva. Anche perché poi effettivamente ci sono delle regole che per gli ultra si può capire siano difficili da digerire, adesso non entro nello specifico sì o no ai Green Pass, le 4 una posizione chiara sui bacini l'ha sempre detto, però non puoi portare i tamburi, non puoi cantare in modo ravvicinato, sono tutte questioni che hanno una correttezza sanitaria ma che chiaramente limitano quella che è l'attività dell'ultra, che non viene allo stadio solo per applaudire seduto ma fa un altro tipo di attività allo stadio, quindi anche qui c'è un problema che riguarda tante tifoserie, non solo la Triestina, Milanese citava il Padova, Padova, Triestina, 4 gatti allo stadio per la giornata, il match clou della Serie C di quella giornata e c'è un tema delle società legato agli incassi, perché una società di Serie C che incassa poco o nulla dal pubblico diventa un problema già a metà campionato. C'è un ulteriore aspetto e poi noi andremo verso la chiusura ricordando l'appuntamento di questa sera agli ospiti, che è legato sempre alla Triestina e alle prime voci che poi qua i social fanno da loro parte sull'allenatore, ingiusto secondo te dare già buchi nella graticola come si dice? Secondo me non ha senso in questo momento, bisogna aspettare almeno ancora un mese, bisogna dare la possibilità di buchi, di impostare la squadra con i nuovi arrivi e di vedere dopo queste due vittorie e questo pareggio come va, poi se ne potrà parlare. Io devo dire la verità, sono abbastanza allergico agli esoneri, se poi vediamo la situazione della Triestina come dicevi tu con gli allenatori già esonerati e in parte a libro paga, insomma io starei un po' più tranquillo. Allora ricordiamo l'appuntamento, questa sera alle 21 il Caffè dello Sport, ospiti in studio. Allora, ospiti in studio, mi è appena arrivata la conferma che ci sarà Cappela per quanto riguarda la Triestina, il difensore della Triestina calcio sarà con noi alle ore 21, per il basket mi arrivano le conferme proprio in questo momento, ci sarà Lever per quanto riguarda l'Allianz, ci sarà Alessandro Asta di City Sport sia sul fronte Triestina che sul fronte Palacanesto Trieste e per la Barcolana il presidente della società velica Barcoler Grignano Mitia Gialluz e il timoniere vincitore della Barcolana 53, Furio Benussi che ci parlerà anche del progetto Arca che punta a una sorta di grande slam nel mondo della vela. Un appuntamento quindi quello del Caffè dello Sport che ritorna nella sua veste integrale e ordinaria a partire dalle 21, i temi li abbiamo in qualche modo anticipati con questa diretta delle 13 per poi invece poter ancora prima delle 21 godere delle immagini della Barcolana, della Triestina e dell'Allianz Trieste nel corso del telegiornale che comincerà tra poco. Grazie Marco. Grazie Bernardo, grazie a voi, ore 21 su Tele4 il Caffè, ora c'è il TG, no? Giusto? Ora c'è il telegiornale, quindi breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con l'informazione di Tele4. Telespettatori di Tele4, buongiorno, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale sciopero generale nazionale questa mattina di tutti i lavoratori, circa mille manifestanti che sono scesi in piazza a Trieste per protestare contro le politiche del lavoro e il Green Pass, il servizio di Gianluca Palladini. Sciopero, sciopero generale contro il governo del capitale, sciopero, sciopero generale. Una critica alle politiche del governo Draghi sul lavoro, sull'introduzione del Green Pass obbligatorio, sullo sblocco di licenziamenti, sulla riforma del fisco, fino alla gestione dei fondi del PNRR, ma non solo. Sindacati e lavoratori in piazza a Trieste e marciari in corteo. Lo sciopero generale nazionale di 24 ore ha raccolto unione sindacale di base, unione sindacale italiana, Cobas e lavoratori di ogni settore. I manifestanti hanno iniziato la camminata per le vie cittadine alle 10 da Piazza Goldoni per poi arrivare in Piazza Oberdan e compiere il giro del centro città passando per Piazza della Libertà, Le Rive, Corso Italia per concludere la marcia tornando in Piazza Goldoni. Ancora una volta Polizia di Stato e Carabinieri hanno presidiato il corteo in testa e in coda a garanzia che il tutto procedesse in massima sicurezza, mentre gli agenti della Polizia locale deviavano il traffico veicolare. Circa mille, secondo i dati della Questura, i manifestanti scesi per le vie del capoluogo. Questa è una manifestazione che vuole mettere al centro i lavori e i lavoratori. Questo governo ha deciso di rimuovere il lavoro dagli investimenti e dagli interventi del piano di rilancio economico di questo Paese. Siamo qui perché c'è anche la netta contrarietà al Green Pass che rischia di distorcere le regole oggi sancite in materia di sicurezza, lo statuto dei lavoratori e anche la materia della privacy. Noi parliamo di lavoro, il governo ha scelto di sbloccare i licenziamenti attraverso un accordo sottoscritto dai sindacati complici. Questo è un corteo ovviamente che parla anche alla questione del sociale. Il governo ha deciso di rincarare le bollette, il governo sta imprimendo una riforma sul fisco che rischia di essere spaventosa e solo a carico di lavoratori. C'è un attacco ai poveri da parte di questo governo. I problemi della sanità, l'indirizia scolastica e la condizione dei lavoratori precari sono altri temi portati in piazza quest'oggi. La pandemia ha ridotto questo Paese in macerie e non devono farne le spese solo i lavoratori e i lavoratrici. Prima di tutto investimenti quindi nel lavoro, nella sicurezza e poi nella sanità e nella scuola pubblica. Questi sono i punti forti di questa manifestazione di oggi. Anche a Trieste, come in tutta Italia, porte aperte ieri nella sede della CGL per una manifestazione di condanna dell'aggressione avvenuta a Roma. Vediamo. L'attacco fascista alla sede della CGL è un attacco alla democrazia e un attacco al lavoro. Un atto di squadrismo fascista, così il numero uno della CGL Landini dopo l'assalto alla sede del sindacato a Roma e anche Trieste ha risposto all'appello nazionale a manifestare per spingere quello che è stato definito un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro. Centinaia tra iscritti e sostenitori si sono radunati davanti alla sede CGL di Via Ponderes dove il segretario generale Michele Piga ha tenuto un discorso. Oggi ci siamo riuniti, c'erano tante persone, tante donne, tanti uomini che sanno che cosa significa la democrazia. Rispingiamo con forza queste intimidazioni, noi con una testa alta andiamo avanti nella rappresentanza democratica del lavoro. Le incertezze, i dubbi che vengono avanti in una fase post-pandemica hanno bisogno di un confronto che tenga insieme la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le libertà individuali. Per queste ragioni noi da sempre sosteniamo la necessità dell'obbligo vaccinale come strumento di tutela collettiva e la richiesta di esigibilità dei tamponi su questo territorio vanno a garantire le persone che, come previsto la legge, hanno mantenuto la libertà di scelta rispetto all'obbligo vaccinale. La risposta deve essere democratica. va rigettato con forza ogni tentativo da parte di squadristi fascisti di prendere la scena politica. Le forze politiche debbano essere chiare da questo punto di vista. Notizie di Cronaca. Si è da poco concluso un intervento di soccorso al parco di Villa Giulia con l'intervento della seconda partenza dei vigili del fuoco di Trieste, il soccorso alpino e il personale sanitario. Una donna di 76 anni è caduta mentre stava percorrendo un sentiero del parco riportando una sospetta frattura della caviglia raggiunta dai soccorritori. è stata stabilizzata sul posto dai sanitari, caricata sulla barella Kong e consegnata all'ambulanza che attendeva sulla strada. In data odierna ancora un intervento dei vigili del fuoco quando erano le 6.30 di questa mattina e nel comando di Trieste è intervenuto con due partenze il funzionario di guardia per un incendio che ha interessato il garage. La stanza sovrastante è una casetta situata nella frazione di Collo nel comune di Morrupino. Nessuna delle due persone residenti è rimasta coinvolta mentre le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. L'intervento è durato parecchie ore. Andiamo adesso invece a parlare della 53esima barcolana che è stata vinta dalla barca Arca SGR del trestino Furio Benussi in poco più di 45 minuti. È stata la coppa d'autunno della Bora ma soprattutto della ripartenza dopo un anno di stop in servizio. Non voglio un attico in centro né una villa in costiera. Cosa me ne faccio? Di un Rolex o del faro della vittoria in regalo? Io voglio libertà. Vento tra i capelli, vela gonfia, orizzonte senza certezza. Dimenticati, cliché, voglio sentire sulla pelle la Bora che tinge di bianco il golfo di Trieste. Io voglio nuove rotte. Il centone barcolanesco della hit Jevet, Io voglio della trascinante Zaz è un inno alla barcolana 53. Un mare di possibilità ritrovate. L'immagine d'apertura è l'insieme del singolo sulla linea di Barcola e nel villaggio sulle rive. Le diverse partenze, le diverse interpretazioni della raffica, i diversi modi di stare assieme, i diversi modi di esserci. L'arte è di vincere comunque con in mano un timone piuttosto che uno spritz. Un portou, le maran. E allora via, tutti sull'arca, quella che ospita velisti di ogni specie, proprio quel nome che simboleggia possibilità di sopravvivere al diluvio, guarda caso, trionfa la barcolana della ripartenza. Furio Benussi è il simbolico Noè che raggruppa a bordo il meglio dell'arte velica nostrana, da Lorenzo Bressani a Stefano Spangaro, sino ai due rappresentanti della pattuglia rosso alla bardata nel team di Luna Rossa, Nicolas Brezzi e Raffaele Fredella. In una giornata da veri lupi di mare, in cui le imbarcazioni più piccole vengono lasciate prudenzialmente a terra, la regata si trasforma in una gara ad eliminazione. Prima la rottura della randa di Porto Piccolo Prosecco Doc, che lascia a secco Cosmina e De Martis. Poi la sorpresa di Way of Life, che mette il turbo dopo la partenza sorprendendo i triestini. Il team di Gasper Vincenz gira in testa in prima boa. Arca seconda è pronta alla rimonta, ma gli sloveni rompono la piastra del carrello della randa, perdendo tutto il margine sull'inseguitrice. Arca SGR, già a poche lunghezze, ringrazia e se ne va. Il team Nostrano taglia il traguardo in terza boa in poco più di tre quarti d'ora. Prima percorso accorciato a causa della bora, che invece di calare aumenta, poi addirittura regata annullata dalla seconda classe in giù. Seconda Way of Life, terza Maxi Iena di Milos Radonic, quarto Adriatic Europa dell'inossidabile Dushampuk. Le nazionalità delle barche dicono Italia, Slovenia e Montenegro per il podio, ma ciò che conta davvero è aver restituito a Trieste la sua cartolina. Per i tanti turisti e curiosi arrivati da Mezzomondo per la Coppa d'autunno, uno scatto, un'immagine, un momento sotto raffica, che, ne siamo certi, non potranno mai scordare. C'è stata però anche l'altra barcolana al netto dell'esclusione delle regata delle categorie Passerem, Meteor classe 13 e 9. Alcuni equipaggi si sono trovati comunque in grande difficoltà a causa delle raffiche di Bora in significativo aumento sul campo di regata. 12 gli interventi di soccorso della Capitaneria a 41 persone. Vediamo. Naufraghi, soccorsi tra le onde e imbarcazioni in difficoltà. La barcolana 53 è stata anche questo. La Bora, che ha toccato in raffiche i 48 nodi, ha creato non pochi problemi ai naviganti. Solo l'esclusione degli scafi più piccoli e la successiva limitazione del percorso ha evitato problemi più diffusi. L'incidente più serio, in prossimità della prima boa, una barca slovena di 10 metri con sei persone a bordo, pare a seguito di una collisione con un altro concorrente, ha perso il controllo dello scafo che ha iniziato ad imbarcare acqua e ad affondare. Una moto vedetta della Capitaneria ha recuperato i velisti, mentre i subacquei dei vigili del fuoco sono riusciti a posizionare un gavitello collegato all'unità fondata per recuperarla in seguito. Un altro velista, caduto in mare poco dopo la partenza, è stato issato a bordo dall'equipaggio del Delfino Verde. L'uomo, assistito da un sanitario presente a bordo, trovandosi in buona salute, è risalito a bordo dell'imbarcazione con gli amici per proseguire la regata. Un timoniere, invece, è stato colpito alla testa dal boma della propria imbarcazione. L'equipaggio l'ha portato a terra, dove un'ambulanza lo ha trasferito al pronto soccorso. 12 gli interventi della Capitaneria di Porto per un totale di 41 persone, tra danni agli scafi, almeno un disalberamento, nelle immagini quello di Anyway, alcune avarie al motore o al timone e diverse randerotte. Ora le interviste ai vincitori della Barcolana 2021, Tristini, Furio, Benussi e Lorenzo Bressani, rispettivamente timoniere e tattico di Arca SGR. Guarda, devo dire, sono contento di quello che ho visto in questi giorni a Trieste, nonostante il brutto tempo. Appena si è aperto un attimo la città si è riempita, la folla e quindi questo è Barcolana. Furio, raccontaci la regata, perché da terra obiettivamente non è che si sia capito proprio tutto, alcuni hanno rotto, altri forse non hanno manovrato al topo, comunque la bora chiaramente ha inciso in modo determinante. Guarda, io ti dico, ricordi Barcolana 2000? Questa era molto simile alla partenza Barcolana 2000, era difficilissimo in partenza, complicato, noi abbiamo spaccato due stecche prima della partenza, abbiamo venuto a mainare per due volte la randa per cercare di metterla in sicurezza, il gol è stato non far danni, non far sbagli di manovra, ma l'equipaggio qua ha fatto centinaia di ore assieme, migliaia di miglia, quindi quello ero veramente tranquillo. Lorenzo Bressani, la Barcolana della ripartenza torna subito in mani triestine? No, finalmente direi, con tutta la gente che c'è sulle rive, sicuramente avremmo avuto il 50% di tifosi, no, il 50% di amici sloveni, ma dopo l'ultima Barcolana due anni fa che ci ha massacrato in bonaccia, finalmente ce la si è ripresa con le condizioni di Trieste, quindi con maggiore soddisfazione vincere con 40 nodi e un upgrade in più perché l'adrenalina sale alle stelle. Passiamo adesso invece alla Triestina che ieri ha pareggiato contro la Virtus.ve con Verona, 0-0, una partita priva di emozioni, vediamo. Un punto fa classifica, ma la classifica si muove poco, per questa Triestina che seppur dimostri spesso che le qualità le ha, è uscita troppe volte con pochi punti dal campo dove era impegnata, a volte ha torto, a volte ha ragione. L'ultimo in ordine di tempo, il campo della Virtus Verona, ieri pomeriggio, risultato? 0-0, occasioni? Sì, ma poche. La prima dei rossolabardati ieri in divisa bianca, arriva al settimo minuto con un sinistro di Galazzi dopo azione insistita. Il suo tiro viene deviato e finisce fuori con il portiere in tuffo per non farsi ingannare dalla traiettoria. Si passa al 26esimo con un'azione che nasce da calcio da fermo e muore con il fischio dell'arbitro, che vede un fuorigioco Giuliano, vanificando così la rete di testa di Negro, arrivata in una mischia in area piccola. Pochi minuti dopo, nella stessa zona di campo, un tiro di Giorno viene sporcato quanto basta per farlo arrivare poi fra le braccia di Giacomello. Una parabola insidiosa di Galazzi impegna il portiere casalingo al 39esimo. Una richiesta di un fallo di mano ai danni della Vecomp a finire di primo tempo, fallo poi non concesso, condisce la cronaca dei primi 45 minuti. A campi invertiti e il ristoro effettuato, i veronesi chiedono l'intervento dell'arbitro per un fallo in area, ma il signor Scarpa lascia proseguire. Quando sul cronometro sono 60 minuti di gioco, il portiere della Triestina, Martinez, è chiamato a distendersi per bloccare la sfera. Cinque minuti dopo è l'altro portiere bravo a togliere le castagne dal fuoco impedendo l'appoggio a rete dei ragazzi di Bucchi. Rischio per l'unione al 69esimo quando lascia spazio il numero 10 locale di rovesciare in area, mandando però il pallone fuori dallo specchio della porta. Al 93esimo il fischio finale pone il termine ad una contesa che si stava trascinando verso una stanca conclusione, senza più il ritmo tale da poter pensare a un risultato diverso. Lo 0-0 non lascia contento nessuno, l'unione è decima in classifica con nove punti sulle otto partite giocate. Basket adesso, seconda vittoria in tre partite per l'Allianz Trieste che ha battuto la Germani Brescia nel match casalingo di ieri sera col punteggio 80-72. La qualità di Banks, l'energia di Conate e le accelerazioni di Sanders vanno ricercati in questo trio i perché della vittoria dell'Allianz contro la Germani Brescia. Partita strappi non particolarmente bella, ma in cui i biancorossi reagiscono con fermezza alla rimonta di un'avversaria piena di talento. Pur i 14 punti in 15 minuti di campo grande sono un fattore da evidenziare e conservare con cura. Pronti via, Conate entra, stoppa e schiaccia. Il centro maliano spiega subito perché quando c'è si sente sia in attacco che in difesa. Banks mette la tripla e Trieste va sul 6-3. La tabellata vecchia scuola di Moss accorcia le distanze in un clima iniziale in cui il nervosismo la fa da padrone. Poi un paio di perse sanguinose dei biancorossi si sommano a due possessi con rimbalzi in attacco e secondo tiro della Germani. Banks reagisce al meno 7 caricandoci la squadra sulle spalle con quattro punti in fila. La circolazione di palla di Brescia resta un bel vedere ma i tanti errori da ambo le parti sono il minimo comune denominatore. Trieste però scopre Campo Grande che a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto mette due canestri di pura classe e chiude un contropiede. Consumato il sorpasso l'Allianz tocca anche il più 7 ma la gara resta in equilibrio grazie ai canestri di Della Valle. Con una schiacciata per parte la partita si infiamma e sugli spalti si accende l'entusiasmo. Trieste cambia volto nella seconda metà della frazione. Banks, Delia, Grazzulis e Conate innestano le marce alte recuperando palloni e trovando l'uomo libero in attacco. Mentalmente i ragazzi di Ciani sembrano padroni del match e il risultato vola sul 47-31 all'intervallo. Trieste svolta sia nel tiro pesante che negli assist. Brescia riparte di slancio con un perentorio 9-5 ma la squadra di Ciani risponde con Banks e Grazzulis. L'Allianz sente la pressione degli uomini di Magro che vogliono centrare la prima vittoria ed ecco allora che l'energia di Conate viene nuovamente in soccorso ai biancorossi. Vede il canestro, spazzola i tabelloni e mette una stoppata che carica il palasporto. E lui insieme a Banks il totem a cui aggrapparsi. Della Valle Sanders però fanno male dal perimetro e nonostante diversi errori gratuiti la Germani torna sul meno 4. I biancorossi infatti smettono di segnare, pasticciano troppo con le palle perse e il match si riapre. L'ultimo quarto è tutto in salita per i padroni di casa. Pessimi attacchi, difesa rivedibile, pure un fallo tecnico a Fernandez. Brescia passa in vantaggio dopo essere rimasta sotto per quasi 30 minuti. L'Allianz sembra smarrita e serve una tripla di Lever per riportarla in linea di galleggiamento. Si gioca punto a punto e il pallone inizia a pesare. Sanders si esibisce in un inchiodato in campo libero che vale il sorpasso. Banks, 25 punti alla fine, muove la retina della linea della Carità e appoggia al vetro. Per una penetrazione, mattoncino dopo mattoncino, Trieste vede il traguardo sul più 5 a due minuti dalla fine. Pure Sanders aggiunge quel qualcosina in più che lo ammette di diritto fra i tre uomini decisivi del match. Il tabellone finale recita 80-72. L'Allianz Dom resta un fortino. L'approfondimento sportivo torna questa sera alle 21 su Telequattro con il Caffè dello Sport. Assieme a Marco Stabile ci saranno Mitya Jaluz, presidente della società velica Barcola Grignano, Furio Benussi, timoniere di Arkan, l'imbarcazione che ha vinto la Barcolana 53, Alessandro Lever, centro dell'Allianz Trieste, Hannibal Capella, difensore della Triestina e il giornalista Alessandro Asta di City Sport. Come detto, questa sera alle 21 con il Caffè dello Sport. Diamo uno sguardo rapido alla pagina Meteo con la situazione generale. Una depressione si sposta dall'Italia verso la Grecia. Martedì sulle regioni affluiranno correnti nord-occidentali umide in quota. Mercoledì più secche e fredde da nord. Per oggi nuvolosità variabile con tempo migliore dal pomeriggio. Al mattino sulla costa Bora moderata in quota vento da nord-est moderato. In calo nel corso della giornata con temperature minime 10-13 gradi massime 15-19 gradi centigradi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.